Un detto cinese dice spazza davanti alla tua casa e tutta la città sarà più pulita quindi pulisci la fontana della pupa attenzione quando vedete i bicchieri davanti alla scuola dovete fare come stanno facendo loro il consigliere comunale e la dottoressa quindi voi dovete prendere esempio no lì c'è un altro pezzo di una succhetta ciao 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 no non vieni c'è affare con la che ci sono sono fin avanti non c'è ma carlo e volante la macchina tua la sanno pigliata beh è troppo lontano dai vuole veramente però vediamo perché la mia macchina è a il c'è il c'è il